Ciao, benvenuto sul mio canale, io sono Laura e oggi vi mostro come da titolo come poter riutilizzare dei pennarelli scarichi questi sono quelli che ha utilizzato la mia bambina, ne ho conservati nel tempo e oggi vi mostro ben tre progetti, quindi iniziamo subito Grazie a tutti 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 Grazie a tutti